Risarcimento Italia dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto incidenti stradali infortuni sul lavoro danni causati da negligenza medica o imprudenze siamo un team di professionisti capaci di assisterti in ogni circostanza offriamo consulenza gratuita massima discrezione e supporto in ogni fase delle operazioni perché l'attenzione al fattore umano è sempre vincente Risarcimento Italia via mattine 5 centro le torri Agropoli Salerno telefono 0974 17 35 044 sito internet risarcimentitalia.com facebook gsa risarcimento italia